Ciao dai miei orecchi, oggi voglio semplicemente farti i miei auguri per il 2019 leggendo una frase molto bella che ho preso dal libro di Francesco Lorenzi che si intitola I segreti della luce 21 passi per la felicità e ho trovato questa una frase molto bella per poter iniziare al meglio alla grande con gioia passione con amore con tutto ciò che è il meglio per noi il 2019 quindi semplicemente voglio farti gli auguri per questo nuovo splendido 2019 leggendoti questa frase queste queste parole appunto di Francesco prendersi cura amare lavorare per un progetto creare condivisione vicinanza comunione fare gruppo dare tutto imparare sbagliare e ricominciare creare ideare alimentare l'oggi e donare orizzonti gustare la vita avere le mani piene di buoni ricordi e gli occhi pieni di sogni anche da adulti vivere per davvero cosa c'è di più bello di più meraviglioso di questo siete nel momento più bello della vostra vita l'adesso cos'altro aggiungere buon 2019 questo è il momento più bello di questo momento è un momento più grande di questo